Un avvocato salernitano è stato interdetto per 12 mesi dall'esercizio della professione per truffa, infedele patrocinio e falso materiale. Il legale avrebbe raggirato un cliente, prospettandogli la conclusione positiva di un processo penale in cui risultava coinvolto e riuscendo a farsi consegnare la somma di 5.000 euro in contanti. Una somma da rimettere all'ignara persona offesa a titolo di risarcimento del danno per il ritiro della denuncia. L'avvocato inoltre avrebbe addirittura redatto un falso dispositivo di sentenza che prevedeva ulteriori 1.200 euro per l'assistenza prestata. A far cadere il castello costruito dall'uomo la condanna del suo assistito, giustificata in maniera goffa tanto da indurre il cliente ad avanzare sospetti sulla sua condotta. Sospetti confermati dalla procura della Repubblica e dai finanzieri del comando provinciale che hanno eseguito la misura cautelare personale emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno e del divieto temporaneo dell'esercizio della professione per 12 mesi.